Buonasera a tutti, tu non sei Gigi e Roger? No, non sono Gigi e Roger, sono Nicola Savino Nicola Savine, buonasera No, Savino, Savino Quelli che calce Quelli che calcio La calce è pure importante per costruire i palazzi È fondamentata I palazzi, fondamentale Ma adesso stiamo qua per sette ore Ecco Lei è il boss delle cerimonie Sì, io organizzo tutto ciò che è concernito Concerne 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 Tonni Gambe Balene Pesce Faccio cibo per tutti i matrimoni 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 è già plurale matrimonico Ci parli di questo famoso castello Un castello pazzesco Dove si svolgono le cerimonie E il mio castello è molto bello Marco Andiran, Andiran, Andello Diciamo Il mio castello è immerso in mezzo a 50.000 nettari di giardine Saranno contente le api, no? Sì, sono contente le api Poi in questo giardino Gli sposi che vengono vanno a fare le foto Ma le foto? Le foto Non sono tante No In questo giardino ho fatto mettere anche un Titanic A grandezza naturata Grande naturale Grande come il Titanic No, un po' più grande Ah, ecco Perché gli sposi devono andare a soddisfazione E dentro ci ho messo un Leonardo di Capri Che canta il champagne Sì Quando vengono tutti gli sposi Sì, beh, certo Forse ha fatto un po' di confusione No, no, non si crea mai confusione Perché è una cosa molto tranquilla C'ho tutti i camerieri a cavallo Che servono A cavallo Camerieri di terra Camerieri di mare Camerieri dappertutto E poi come segna tavola Sui posti c'ho dei Maradona Con un pallone di diamante Eh, una cosa sobria E sulla montagna dietro C'ho un padre Pio de Janeiro Grandezza naturale Che veglia su tutti i castelli Eh, Alè, Alè Che bello Che bello È vero che lei Per i suoi sposi Mette addirittura A disposizione un elicottero? Eh, c'ho un elicottero Perché a un certo punto Nel buffet L'elicottero si alza in cielo E spara pizzette E tartine Per tutta la popolazione Però, eh Tipo Aiuti umanitari Anche Anche se adesso Anche se adesso Questa cosa È un po' pacchiana Oh, meno male che l'ha capito È superata E abbiamo Le frecce tricolore Che volano Con il fumo delle carciofa Arrostitele Arrostite Arrostitele Sono tante E scrivono il nome Di tutti gli invitati Che vengono Al ristorante Una cosa proprio Basso profilo Basso profilo Eh, basso profilo Allora, il menù Veniamo al menù Della cerimonia Il menù di soldi È a base di pesce Certo Perché noi abbiamo pesce A zfun Cosa vuol dire? Che è? Che è? A beveruna Che cosa? Non lo capisco Nico A migliaia 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 E' una giovana Con un nettuno Che a pizza E' una purpezza Che gratta dietro a un delfine Eh, alee Vai Con i faraglioni Che parlano Eccetera eccetera Una cosa Molto tranquilla Diciamo che Ora io È agghiacciante No, no La piscina non è agghiacciante E' un po' calda No, perché a un certo punto Dopo mezz'ora Caliamo tutti la pasta Ah, no Non per farci No, caliamo la pasta Nella piscina Per far mangiare Tutti gli invitati E' Che bene Sempre Sempre molto Colorito Il nostro Don Ciro Sì Sono colorito Perché ho fatto una lampa Una lampada Una lampada E ora mi chiamano Donna Bronzio Senta Don Ciro In genere Come si concludono Questi matrimoni? Con i botti Con i botti Nel senso Con i fuochi d'artificio Che No, è che succede A fine cerimonia Arriva sempre L'ex fidanzato Della sposa Si incontra con lo sposo E se ne danno Tutte botte E applausi Agli spose Applausi A Nicole Grazie Un applauso Al boss Delle cerimonie Don Ciro Don Ciro Ciro Giustiniani Sì Ci vediamo dopo Guarda che tempo Grazie Guarda